Il 9 luglio del 1968, al National Institute of Earth di Bethesda, nel Maryland, lo scienziato John Calhoun posiziona otto topi bianchi in un recinto quadrato, aperto per permettere l'osservazione degli animali, largo 2,7 metri e con pareti alte 1,30 m. Ha così inizio un esperimento che farà discutere per molti decenni a seguire, influenzando etologi, psicologi del comportamento e studiosi di tutto il mondo, ma quel giorno d'estate di più di mezzo secolo fa Calhoun non sa nulla di tutto questo. È solo un etologo sulla cinquantina specializzato negli studi del comportamento animale. Forse ha intuito che la popolazione umana mondiale sta crescendo in modo vertiginoso, troppo vertiginoso, e vuole prevedere cosa possa succedere nel caso in cui l'ambiente naturale diventi troppo piccolo per contenerci tutti. I topi scelti come cavie sono considerati i migliori esemplari del NIM, il National Institute of Mental Health, l'Istituto Nazionale della Salute Mentale, e vengono posizionati in un mondo in cui non è necessario alcuno sforzo per difendersi dai predatori o procurarsi il cibo. Inoltre sono protetti dall'insorgere delle malattie, devono solo mangiare e riprodursi. Prima di continuare con le vicende dell'esperimento di Universo 25, ti rivolgo un piccolo appello. I nostri video sono visti da milioni di persone ogni mese, ma gli iscritti sono molti, molti meno. Puoi sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale iscrivendoti e seguendoci sui social. Basta un click. Grazie mille. Universo 25, così si chiama la gabbia, ha uno spazio orizzontale libero e tante nicchie disposte nei muri verticali, raggiungibili dai topi grazie a delle griglie in ferro saldate sulle pareti. Le nicchie sono collegate da 4 tunnel e sono complessivamente 256, un numero di nidi sufficienti a ospitare teoricamente 3800 topi in tutto. La gabbia viene pulita ogni quattro settimane e la vita al suo interno è una sorta di paradiso. Niente gatti, niente trappole, niente caldo o freddo e nemmeno il rischio di finire vivisezionati come cavie o oggetto di operazioni con bisturi e siringhe. Nulla di tutto questo, semplicemente mangiare e riprodursi e infatti il numero di topi inizia a crescere vertiginosamente. La popolazione, dopo un periodo di circa tre mesi di adattamento, inizialmente raddoppia ogni due mesi. Prima 20 topi, poi 40, poi 80 e così via. In seguito la curva di crescita cala un po', ma la popolazione raggiunge le 620 unità nell'agosto del 1969, un anno dopo l'inizio dell'esperimento. Dopo 560 giorni, quindi dopo circa un anno e mezzo dal momento in cui sono state introdotte quelle prime quattro coppie di topi, con 2200 esemplari, Universo 25 raggiunge l'apice della sua popolazione. Poi le cose iniziano a cambiare. I topi vivi superano di molto i ruoli sociali disponibili e si iniziano a notare delle anomalie comportamentali che diventano via via più innaturali. Alcuni maschi cominciano ad attaccare femmine e neonati, altri diventano pansessuali, tentando di avere rapporti con tutti i topi disponibili. Le femmine, rimaste sole e in pericolo perché minacciate dai maschi, si rifugiano nei nidi più alti, portando con sé la prole, alla quale però non sono in grado di provvedere perché impegnate nella difesa del territorio. La stragrande maggioranza dei piccoli viene lasciata morire e nessuno si cura di loro. In alcune zone di Universo 25 il tasso di mortalità dei piccoli raggiunge il 96%. Altri esemplari all'interno della gabbia, definiti da calunna i belli, non si preoccupano di nulla se non di mangiare e lisciarsi il pelo, e sono gli unici che non riportano feriti da combattimenti con altri individui. I gruppi di topi rimasti che girano all'interno della gabbia sono sproporzionati, a volte con un solo maschio per 10 femmine, oppure di 20 maschi e 10 femmine. In questa situazione esplode la violenza, il pansessualismo e persino il cannibalismo, nonostante il cibo fosse abbondantemente disponibile, che porta al totale collasso dell'utopico Universo 25. Dal giorno 600 in poi la popolazione inizia a calare e l'ultima nascita risale al giorno 920, il primo arzo del 1970. L'esperimento termina cinque anni dopo il suo inizio, nel 1973, con la società dei topi che è completamente estinta e l'ultimo topo morto. L'Universo 25, in cui non esistevano esigenze se non quelle relative alle interazioni fra i membri, era collassato per la mancanza di ruoli sociali da impiegare, distrutto a causa della sovrappopolazione dai suoi stessi membri. Nel 1973, Callum pubblicò la sua ricerca sull'Universo 25 e la intitolò Death Squirrel, The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population. Al suo interno si trovano citazioni del libro dell'Apocalisse, con dei corsivi su alcune frasi o parole per enfatizzare la situazione, ad esempio uccidere con la spada e con la carestia e con la pestilenza e con le bestie selvagge. I topi venivano chiamati con nomi umani, ad esempio i belli erano quelli tranquilli che non si accoppiavano e i bevitori sociali quelli che si affollavano attorno alle bottiglie d'acqua, mentre il collasso della società fu definito fogna del comportamento. Tutto questo era un linguaggio poco accademico, ma perfettamente in grado di trasmettere in modo vivido il pensiero del suo creatore, le cui conclusioni erano sconcertanti. Non importa quanto sofisticato l'uomo creda di essere, una volta che il numero di individui in grado di ricoprire un ruolo sociale supera largamente il numero di ruoli disponibili, la conseguenza è la distruzione dell'organizzazione sociale. Le parole dello scienziato discusse e oggetto di approvazione o controversia scioccarono la comunità scientifica dell'epoca, che era seriamente preoccupata dall'esplosione demografica durante gli anni del benessere. Negli anni 60, 70, 80 e 90 si assistette a una crescita sostenuta, rallentata soltanto negli anni 2000, lo stiamo vedendo al giorno d'oggi, e che non aveva idea di cosa ciò avrebbe comportato. Chissà cosa penserebbe oggi John Callum del nostro pianeta dopo l'effetto dell'epidemia e del distanziamento sociale. Forse usando l'immaginazione ci sta osservando come osservava i suoi topi, intenti a distruggere la società che essi stessi avevano creato. Ah ragazzi, visto che me l'avete chiesto in tantissimo, queste magliette qui le trovate su pampling.com. Se usate il codice sconto vanilla al momento dell'acquisto, a voi regaleranno un paio di calze, a me daranno del credito per comprarne delle altre e mostrarle sul canale. Grazie a tutti.